Vai, vai col twerk Vabbè ma Vai col twerk, vai Prima che il video cominci vi ricordiamo che Sabato 9 e domenica 10 saremo presenti a LetaTube Ci saranno pure le nostre magliette quindi se vediamo la bella Bella vecchia di raffanelli simili Ramanas e siamo tornati con un nuovo episodio qui del Paco Pening Che fastidio che fai Comunque oggi sono di nuovo i pacchetti mega Questa volta ce ne sono ben 10, eccoli qua La zanzara Dove dentro ci saranno 30 giocatori di cui 28 Di cui 16 No, di cui 18 Sono rari E gli altri no Partiamo con il primo Tensione Tensione Cibo magico Così Dammelo merda William Wow Dos Santos Dos Santos Montoya Capelle Il grandissimo capello E tu Oh black Fortissimo Pacchetto oro Da paura Andiamo subito ad aprirlo Mamma mia Griezmann C'è dentro Gillet La fita La fita Viva la fita Questo quale sorta fa così La fita Bam Ci sarà Sbam Giro magico ancora Ronaldinho 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 Roley 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 Rodriguez Erkin Arribas Io lo sai Grandi Consigli Roley Roley They see me Roley They hate me They see me Roley Apriamo Un altro pacchetto Da Jesu Devi premere si Cosa stai facendo? Cinque Dopo? Magari Se trovi qualcuno Tipo Stegelenburg Da quando sta al monaco Stegelenburg? Da quando sta giocando in Champions? Soldi Bella quella del Bayern Soldi Soldi Vai così Stanto uno dai Su sette pacchetti Uno forte lo troviamo dai Cazzo Non potevamo essere sempre così sfigati Certo Certo Uno forte Che intendi company Che non vale un cazzo Ramsey Che non vale un cazzo Finita Mo se spegne la play Cahill Marchinho Marchinho Ancora Camaglia da Roma Dai all'altro Popoff Che popoff di giocatore Barker Aspetta ma chi è? Questo qua pare Vider Barker Pare uscito Pare uscito Da un coso Da un film Dai Questo è il pacchetto buono Vero? Fai un rito profiziatorio Dai Attenzione Se troviamo qualcuno Con una grattata di palle Spam Oh Non fare un cazzo Non fare un cazzo Non fare un cazzo Non fare un cazzo Non so però Il più forte abbiamo trovato fino ad adesso Tocca a te Oh 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 Rito profiziatorio Dai un altro Cambio Ah ho capito Abbiamo trovato David Bah Finisce qua il pack opening Max S Io sogno Di trovare un pacchetto Bah e basta Così non mi fa Basta E bah E basta Bah Demba Basta Demba Basta Oh 777 La pagina di media video Perché ho fatto così Non so Nani Close È tutto close a quest'ora Perché c'è Nani Nani Perché abbiamo trovato Gli argenti rari Guarda quanti contratti Ho gli assordi con tutti questi contratti Perché gli argenti rari Prego Grazie Ancora 777 Giuro che se trovo qualcuno Vi twerco Inghiera Ritro proviziatorio Oh Adrian IF Cavo Lo stavo pure male Hai capito Andalo Vincendo Ma dove vale Adria Comunque abbiamo trovato un IF Quindi è già una sculata Vai Vai col twerk Vabbè Vai col twerk Vai Vai Basta proprio Basta Ma non lo faccio più Questo non è più Mi da vende Ma io ce l'ho giocato Adrian Ragazzi almeno qualcuno L'abbiamo trovato Ne mancano ancora due Scusate Sto bariliando Tocca ma a me No ma che E' lui C'è Ronaldo C'è Grandissimo Vidic E' anche l'altro Vuoi Teglio Boni State boni State boni Buona taglio Di pizza Buoni Buona torrotte L'ultimo L'ultimo C'è Ci sarà Ci sarà Ci sarà Senza mani Ci sarà Senza mani Attenzione Oddio mio Granquist Ancora gioca Beh perché No Kozak Ti ricordo Grandissimo Libor Kozak Dovai essere Inferno Campbell Io non sarei già in piedi Oppure Resistere agli urti Vabbè ragazzi Questo video E' finito Anche oggi Colpa Covening Non abbiamo trovato Nessuna parte Adrian Ma noi Ce li abbiamo lasciati 5000 like In descrizione Sono tutti i nostri social Noi ci vediamo al prossimo Covening Bella Ciao